Giordano Bruno Guerri, Federico Palmaroli ed Enrico Ruggeri sono stati gli assoluti protagonisti degli eventi che hanno animato l'ottava giornata della Festa della Rivoluzione. All'Aurum lo storico saggista, giornalista e accademico italiano Giordano Bruno Guerri ha presentato nel suo libro Disobbedisco Parole ai ribelli che raccontano l'impresa di fiume. Sala gremita per l'incontro con l'autore al quale hanno partecipato il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, il vicepresidente Domenico Pettinari e il sindaco di Pescara Carlo Masci. Con il libro, grazie al suo stile inconfondibile, Giordano Bruno Guerri ricostruisce i 16 mesi dell'impresa di fiume attraverso migliaia di documenti inediti custoditi negli archivi del Vittoriale, intrecciando in una narrazione appassionante la grande storia con le vicende degli uomini e delle donne che hanno vissuto quell'irripetibile avventura e portando alla luce un aspetto inedito della poliedrica personalità del Vate che ne fu l'ispirato animatore e l'indiscusso protagonista. Nel pomeriggio a Piazza Muzzi è sbarcata artiglieria in Baldoria dell'autore Federico Palmaroli, divenuto noto con le più belle frasi di Osho e che, accompagnato dal giornalista Alessandro Sanzoni, ha proposto la sua inconfondibile satira, utilizzata come un colpo ben assestato nello stomaco di tutte le saccenti musonerie. Per me è un'occasione speciale perché, a parte Pescara, è la quarta volta che vengo da quando sono Osho, tra virgolette. Poi, essendo un grande appassionato dell'impresa di fiume, che non in tanti conoscono perché ovviamente è facile subito collocarla in ambienti esclusivamente di destra, quando in realtà è stata la prima Woodstock della storia. Quindi, per me essere invitato, già insomma mi fa piacere fare questa sorta di spettacolino. Poi farlo alla Festa della Rivoluzione, per me è proprio una grande gratificazione. E in serata per il gran finale si sono accessi i riflettori sull'Alma Tour 2019, del cantautore, scrittore, conduttore televisivo e radiofonico Enrico Ruggeri, che ha tenuto un concerto di fronte a una piazza salotto affollata dai fan giunti da ogni parte d'Italia. Il tour, che ha preso il via a marzo di quest'anno, è composto da due tipi di esibizioni che sottolineano la duplice anima del cantautore, resa celebre nel suo disco del 1990 Il Falco e il Gabbiano. Il falco è l'animale aggressivo, mentre il gabbiano è quello poetico per eccellenza. In questa serie di concerti, infatti, gli show nei teatri in cui Ruggeri, a seconda la sua vocazione cantautorale, si alternano a quelli nei club dalla verve elettronica. Sul palco lo hanno accompagnato Francesco Ruppi, Paolo Zanetti, Fortu Sascha e Alessandro Polifrone, musicisti che l'hanno affiancato anche nel tour appena concluso nei club. Alma, che a Ruggeri stesso ha definito uno dei progetti più importanti della sua vita, testimonia l'urgenza creativa che ha contraddistinto l'artista milanese in 40 anni di carriera, nel corso dei quali ha scritto pezzi di storia della musica italiana per se stesso, per i Decibel e per altri grandi artisti.